Questo è un video molto particolare, io non l'ho mai fatto, è da circa un anno che ho iniziato la mia, come dire, avventura sui social insieme a voi, ragazzi, questi sono uno dei, non so, alcuni mondi che ho fatto proprio per queste avventure, magari qua faccio le copertine, creo le copertine di Minecraft, eccetera, per YouTube, ma questi mondi secondo me non sono molto importanti. L'importante è questo, MortiYT, l'ho chiamato così. Allora, per MortiYT io intendo Morti YouTube e TikTok. Praticamente, voi sapete che io ho una serie che esiste da un po', che è chiamata appunto Morti, comunque sono le morti praticamente che faccio su TikTok, e questa serie va avanti da un bel po' di tempo, ragazzi, cioè davvero, ora io non so, da circa dall'estate, ecco. Da quando ancora non avevo questo PC, quindi anzi, altro che dall'estate, ancora da prima, e praticamente sin da quando avevo l'iPad. E questo mondo è una cosa veramente importante per me, perché praticamente segna l'inizio di una grandissima crescita, di un'esplosione che io sono riuscito a fare. Non solo questo mondo, ma anche un altro mondo che c'è su iPad, che non sono, non penso di poter ritrovare, che è quello dove ho trovato per la prima volta a Inf, non so se vi ricordate. Un bel mondo quello, davvero, molto bello devo dire. Questo invece è il primo mondo dove sono riuscito a crescere ancora di più, qua io non so, non mi ricordo che cosa avevo fatto, forse qua era per una copertina, probabilmente può darsi. Allora, però praticamente qua potete vedere, forse qua c'è stato il video di questo mondo qua, che ha fatto più views in assoluto, cioè praticamente dove io mi droppavo qua, dove c'erano i diamanti, no? Ovviamente per chi non l'avesse ancora capito, quei video erano stati fatti apposta per far ridere, no? Perché c'erano alcuni che scrivevano, eh l'hai fatto apposta. Sì, fatto apposta per far ridere, è chiaramente fatto per far ridere, ragazzi, io non penso che qualcuno muoia così tante volte in modo così tanto stupido, cioè poi magari c'è qualcuno che muore così tante volte su Minecraft, eh per carità, non dico niente, però. È fatto apposta chiaramente, no? Non voleva essere, non volevo ingannarvi o cose di questo tipo. Qua per esempio, io non so se è da questa parte, ma in cielo ci sono altre cose, perché in questo video vorrei esplorare insieme a voi le cose che appunto mi hanno portato anche ad avere davvero tante views su TikTok, quindi ad avere tanti follower. Allora, io questa cosa la sto registrando periodo feste, quindi praticamente le mie ceste hanno questo colore qua, diciamo questa texture particolare, che io non approvo molto perché, vabbè, nel senso non tutti festeggiano, diciamo, il Natale o comunque determinate feste. Io sì, perché, vabbè, io sono cristiano però, cioè nel senso non tutti, quindi, vabbè, questa cosa è una cosa, vabbè, un po' mia che non conta molto, ma secondo me se tu fai un gioco rivolto a tante persone, secondo me è inutile che metti per il periodo di Natale delle feste che cambino. Cioè sì, è carino per carità, ma come anche per il periodo di Halloween che con i zombie, con le zucche in testa, secondo me non serve a molto, però vabbè. Praticamente qua avevo pensato, hmm, e se facessi una cosa di morte così, praticamente, prima prendo quello che c'è dentro e poi mi butto. E praticamente, e gli urlavo tantissimo, non so se vi ricordate, ha fatto ridere tantissimo, anche me, ma guardate che io quando, quando creo, forse sarà, sarà stupido, non lo so, sarà un po' anche da persona vanitosa. Ma io quando creo i miei video, questi video qua, io quando me li ripeto, mi metto a ridere perché sono cose stupide, mi fanno ridere che no, cioè, tu dici, ma come caspita gli è venuto in mente? Poi qua avevo fatto una cavolata di video, non so che caspita mi era venuto in mente qua, però avevo messo una serie di blocchi, infatti questo non è che fosse andato molto bene, mi ricordo. Però anche questo è parte della mia crescita, della nostra crescita insieme, perché io vi ricordo ragazzi che siamo cresciuti tutti insieme, cioè noi tutti quanti insieme stiamo ancora facendo adesso un grande cambiamento, un cambiamento veramente straordinario che, boh, cioè, non lo so, io veramente vi ringrazio per le emozioni, per le avventure che stiamo vivendo tutti quanti insieme e per le prossime avventure che arriveranno, cioè io veramente ragazzi, cioè noi vivremo delle avventure davvero, davvero magiche, davvero, cioè io, allora, ogni volta che ci penso a me, non lo so, mi viene da commuovermi, cioè, adesso mi stanno anche venendo le lacrime agli occhi, perché per me, sin da piccolo sognavo questa cosa, davvero. E veramente, io, cioè, ringrazio voi, ringrazio voi, ok, voi, perché mi state permettendo di raggiungere un mio sogno e io, non lo so, io sono tanto contento per questo, che io sto lavorando per raggiungere questo obiettivo e vi sto rendendo felici giorno dopo giorno con i miei video e anche insieme ai miei altri amici qui su YouTube. Poi certo, magari su TikTok ho provato anche un po' a farli venire nell'ultimo periodo, ma magari un po' più complicato su TikTok, anche se ci siamo chiaramente riusciti. Volevo anche ringraziare i miei amici, quelli che ci sono stati fino alla fine di quest'anno, proprio per avermi aiutato a realizzare i video su YouTube. Vi ringrazio perché hanno anche la pazienza di sopportarmi, io spero che non vedranno questo video perché è molto imbarazzante. Hanno avuto la pazienza di sopportarmi perché chiaramente a volte può essere stancante fare i video, soprattutto magari a volte, non lo so, magari quando ci si scalda un pochino, perché chiaramente, come dire, insomma, cioè nel senso quando le cose non vanno come si vogliono, almeno io mi arrabbio. Quindi ringrazio i miei amici per esserci ancora, ringrazio davvero tutti quelli che ci sono stati, anche altri miei altri amici, cos'è che ho detto, insomma, altri miei amici, altre persone che ho incontrato lungo questo cammino, persone davvero importanti che ho incontrato in questo cammino. Parlo di, anche di una persona in speciale che, vabbè, non so se mai vedere questo video, spero che sappia di cosa parlo. C'entrano però le costruzioni, questo lo posso dire, quindi quella persona, se mai vedrà questo video, è un po' impossibile, ma potrà capire bene. Cos'altro? Ringrazio davvero anche le persone che comunque, ora, magari per un motivo o per l'altro non ci sentiamo più, le ringrazio perché anche loro sono state parte di quest'anno, davvero fantastico. Cioè, nel senso, ovviamente, brutto, sotto certi punti di vista, orribile, davvero terribile. Sotto il punto di vista mio, professionale, perlomeno, non lo so, dei miei sogni, assolutamente è stata una cosa veramente bellissima. Certo, ovviamente, è sempre terribile per quanto riguarda, no, tutta la storia dei, insomma, che tutti conosciamo, no, che è successo nel 2020, che però non voglio nominare qua su YouTube perché sia mai che YouTube magari decida di ammazzarmi, non lo so, può darsi, chi lo sa, bo. Quindi, davvero ringrazio, ripeto, i miei amici, le persone che mi hanno aiutato anche a realizzare le mappe, eccetera. Sono persone davvero speciali, grazie. Io, però, veramente, cioè, queste avventure, quelle che stiamo vivendo noi qua adesso, sono veramente un qualcosa, un qualcosa davvero di straordinario, ragazzi. Cioè, io, bo, non lo so, cioè, davvero, io vi ringrazio davvero tanto di cuore. Cioè, io non so come dirlo, perché sono proprio avventure che ci danno emozioni, che ci danno, c'è proprio qualcosa che viviamo tutti quanti insieme, come un grande gruppo, una grande famiglia che siamo insieme, che uno, avete visto, si inventa, non lo so, l'edit di qualcosa, di un mio video, e quindi io ci faccio magari la reazione anche su TikTok, vi invito a farle queste cose perché creano community, creano gruppo. E' molto importante questo. Inoltre, qua, un altro video che era andato bene, mi pare, qualche decina di miei di views, niente male, devo dire. Qua dobbiamo, però, trovare altre cose perché questo è anche un po' una caccia al tesoro delle cose che sono successe, no? Dei miei video. Allora, io mi ricordo anche che qua c'era il portale del Nether. Anche nel Nether io ho fatto qualcosa, infatti adesso ci andiamo. Ho fatto delle morti, no? Praticamente io qua morivo. Allora, questo è lo spawn, praticamente, no? Lo spawn però non è che succeda molto, cioè nel senso, infatti, non è che ci siano molte cose. Però praticamente qua ero andato a trovare altre cose. Esattamente. Mi ricordo che circa in questo qua, poi non so esattamente qua, avevo fatto, mi ero buttato nella lava. Oppure, oppure qua mi ero teletrasportato. Avevo picchiato una mucca, mi ricordo, e mi ero teletrasportato qua. Oppure addirittura avevo cavalcato uno di questi strider e poi ovviamente, come al solito, andavo a morire sempre, ogni volta urlavo. E poi, mamma mia, quant'era, non lo so. Mi diverto molto a fare queste cose, davvero, sono bellissime. Sono appunto avventure che viviamo tutti quanti insieme. E, boh, cioè, porca miseria. Non lo so, cioè, ragazzi, io mi commuovo, mi commuovo perché, perché non lo so. Mi ritengo anche una persona davvero fortunata. Non lo so, mi ritengo davvero fortunato perché ho la possibilità di crescere, di continuare, insomma, su questa strada. Davvero, non avrei potuto chiedere di meglio. Cioè, ecco, qua avevo fatto un altro episodio vicino ad una fortezza, mi pare. E qua mi ero buttato, mi ricordo, una cosa di questo tipo. Una roba pazzesca, davvero. Però adesso magari mi chillo perché... Ritorniamo nell'overworld perché magari lì ci sono più cose. Boh, tutto sommato, devo dire che... Tutto sommato, insomma. Ah, vedete, anche qua c'è stata un'altra cosa qua, praticamente. Ho fatto un parkour qua sotto. Beh, andava a cadere nella lava. Eh, mannaggia me, oppure qua... Esatto, qua c'erano delle ceste. Poi non mi ricordo qua come andava a finire, però probabilmente venivo teletrasportato, se non mi ricordo male. Forse venivo teletrasportato qua. Ditemi se sbaglio, eh. Scrivetemi nei commenti se sbaglio, però secondo me non mi sbaglio. Cos'è che c'è là? Un villaggio, ok, no? Perché pensavo magari che adesso pure questo mondo fosse infestato. Come se non ce ne fossero abbastanza di mondi infestati. Eh? Eh, 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 come se non ce ne fossero abbastanza di questi mondi infestati, pazzeschi, che poi veramente, cioè, tutti quei mondi infestati, tutte le avventure che viviamo insieme. Io, ragazzi, cioè, non lo so. Cioè, io non so spiegarvi. Vi auguro solamente, se qualcuno di voi ha questa passione, io vi auguro di riuscire a raggiungere questi obiettivi. Perché, davvero, è una sensazione davvero difficilmente spiegabile. Fin quando non la vivi, fin quando non ci sei dentro, è davvero difficile. Perché poi ti senti dentro a tutto questo calderone, ti senti dentro a questi video che fai, alla gente che ti commenta, eh, ma no, perché secondo me è così, là, Dunis, perché secondo me devi fare così. Eh, beh, sono bellissime queste cose. Fra l'altro, non aspettatevi altri video del genere sul canale, cioè, nel senso, magari li porterò, non lo so. Questo è un recap di quello che è successo durante il 2020 e io ve ne sono immensamente grato. Fra l'altro, lo carico nel periodo, no, natalizio, proprio perché non c'è tanta gente, quindi non mi imbarazzo, eh. Perché, eh, capito, capite la mia strategia bellissima. Vabbè, adesso vorrei passare ad un altro mondo, però. Il mondo che volevo andare a vedere adesso è questo qua, SCP TikTok. Siamo andati a vedere molti SCP, molte, davvero, abbiamo esplorato SCP. Io vi ho spiegato su TikTok, praticamente, io facevo dei piccoli TikTok dove andavo a spiegarvi tutte le cose che c'erano da sapere riguardo ad un SCP in maniera breve e veloce. Secondo me era, TikTok è un ottimo posto dove andare a raccontare, appunto, di un determinato SCP, dove andare a dare proprio la descrizione, magari anche scientifica, di un SCP. E noi insieme, se magari ritrovo qualcosa qua in questo posto, praticamente noi insieme siamo andati a vedere, appunto, queste celle. E io vi ho fatto vedere e vi spiegavo quello che facevano. Secondo me anche questa, dai risultati, si è visto che è piaciuta molto come serie e come idea. E io sono, anche lì sono davvero contento. Poi purtroppo è finito SCP perché, diciamo che, prima o poi, insomma, tutte le cose un po' alla lunga, secondo me, stufano, ovviamente. E era arrivato anche il momento di SCP. Poi, ovviamente, ecco, per esempio abbiamo trovato una cellula qua. Ovviamente sapevamo bene chi è stato a lanciare SCP su Minecraft, su YouTube Italia. Ok? Dico su YouTube Italia, non dico su TikTok, su TikTok non ne ho la più pallida idea. Però su YouTube Italia sono sicuro che è stato Lion. Lo conoscete tutti, no, insomma. Che, se mai vedrà questo video, lo saluto. Ciao, Lion. Ecco, praticamente questo era l'SCP 409. Noi qua, io mi ricordo che vi spiegavo, vi spiegavo quello che faceva questo SCP, praticamente. Vi avevo dato una descrizione che, praticamente, questo andava a calcificare tutte le persone. Non so se vi ricordate, no, a calcificarvi tutti quanti. Insomma, se andavate a toccarlo. Era molto bello. E, secondo me, davo proprio le descrizioni veloci. Adesso non riapro più quella porta perché fanno un casino queste porte. Assurdo. Assurdo. Davvero tantissimo casino. E, secondo me, trovare gli SCP è veramente bellissimo. A me piacerebbe provare a riportarlo. Ma, secondo me, è un po' andato SCP. È un po' andato di moda. Purtroppo, allora, davvero, a me piace tanto come cosa gli SCP. Cioè, mi piace. Mi piacerebbe, appunto, riportarlo. Però, anche magari, insieme ai miei amici, no. Però, oh, che ci volete fare? Cioè, dopo tutto, è stato portato e riportato da tutti. Da tutti quanti. Anche perché, poi dopo, ovviamente... Ah, guardate, queste sono gli SCP, le ombre. Non so se avete presente. Sono quegli SCP là, bellissimi. Che praticamente ti si attaccano al corpo e chissà dove ti entrano. Poi dopo, è meglio non sapere, ragazzi. E fidatevi di me. È meglio non sapere di queste cose. Oh, porca miseria. Che bello che è stato. È stato davvero un anno pieno di emozioni. Poi qua ci sono altre cose. Non so, boh. Questi sono i laboratori degli SCP che, secondo me, fanno un po' schifo. Però rendono l'idea, no? Rendono chiaramente l'idea. Non lo so, fatemi sapere un po' se volete rivedere SCP. Sarebbe bello da poter portare insieme, però... Non lo so. Non so se funzionerebbe tanto. Tipo una nostra avventura nel mondo degli SCP. Potrebbe darsi che sia una bella idea, eh. Ma non saprei. Non ne ho idea. Fatto sta che anche qua a voi è piaciuto davvero tanto. Questo è stato un altro dei mondi, appunto, che vi è piaciuto. E io sono contento... Ah, vedete? Questa è la panacea. Bellissima. Mamma mia. Adesso me la mangio. Ah, così... Mi sono curato dappertutto. Non ho più nessun problema. Purtroppo questo auto jump qua che mi dà un fastidio, porca miseria. Perché Minecraft deve aver introdotto questa funzionalità inutile. Chi è che usa l'auto jump? Scusate, su computer perlomeno. Dico su computer. Chi è che usa l'auto jump? Scrivetemi se usate l'auto jump. Magari mi sbaglio io. Sono io strano che non lo uso. Tutti quanti lo usano. Non lo so. Può darsi, eh, per carità. Può darsi che sia strano io. Niente, è davvero un'avventura veramente straordinaria. Bellissima che abbiamo vissuto tutti quanti insieme. L'auguro a tutti quanti di viverla. Mi sono appena accorto che non ho inserito le texture che avevo su Minecraft 1.16. Fate finta di niente. Questo mondo sarà triste, ma perché degli SCP è tutto quanto pauroso e cupo deve essere così. Fatemi sapere se volete vedere altri di questi video recap, di questi video molto sentimentali. Nel senso, no, molto toccanti dal profondo che escono. Perché appunto, non lo so, secondo me, probabilmente vedrete anche una parte dove io praticamente scorro quello che mi ha fatto vedere TikTok. No? È una parte proprio dove registrerò lo schermo del mio iPhone e dove praticamente fa il recap di tutte le cose che abbiamo fatto. E questo, quella cosa che mi ha fatto vedere TikTok, mi ha fatto venire l'idea di questo video. Chissà, chissà, il 2021 sarà un anno di crescita ancora più grande. Di nuove avventure insieme ad Unis e ai suoi amici. Insomma, nuove avventure insieme a tutti noi. Vi ricordo che siamo un gruppo, un popolo di persone. Eh, boh, non lo so. Non lo so. Cioè, mi sembra di vivere... Mi sembra di vivere la storia di qualcun altro. Non lo so. È strano, è strano da dire. È come se stessi vivendo la storia di qualcun altro. È come se stessi vivendo in un videogioco veramente bellissimo. È come se stessi vivendo in un sogno. Ma in realtà è la mia storia. È la mia storia. È la storia che sto creando, che stiamo creando tutti quanti insieme. E che stiamo vivendo tutti quanti insieme in questo gruppo. E niente, io vi ringrazio davvero tanto. Niente, finisco qua perché sennò non finisco più davvero. Questo video è già troppo lungo per... Cioè, davvero. Però avevo bisogno di farvi sentire tutto ciò che volevo dirvi. Perché è giusto così, è giusto così. Anche perché voi siete stati vicini a me in questo anno. E io ci sono stato per voi, per i video, eccetera. È stato veramente un anno pazzesco. Il 2021 sarà un anno ancora migliore. Dove cresceremo ancora di più, con prospettive ancora più alte. Non solo su TikTok, ma questa volta anche su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Mannaggia a voi. Iscrivetevi, eh. Qua c'è una montagna molto strana che... Vabbè, un po' strano, eh, in effetti. Iscrivetevi a questo canale YouTube, ragazzi. Perché chiaramente qua su YouTube ho la possibilità di farvi... Di creare storie ancora migliori. Molto più lunghe, ovviamente. Perché un video su TikTok dura qualche secondo qua su YouTube. Vabbè, e dura anche 20 minuti, per dire. Quindi, iscrivetevi a questo canale. E niente. Ovviamente, continueremo. Sempre di più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, donisiani. Anzi, da ora in poi vi chiamerò Popolo. Quindi, ciao, popolo.